no lo ingaggia al 2 ma se lo aspettassi qua dentro allora starti se lo vuoi ingaggiare al 1 starti con la E davvero starti con la E e gli rotelli in faccia ma li mo lo ingaggia qua continuo a far pizze e vediamo che vince ma lui è un maiale non c'è Riva non c'è Riva prego quando faccio questa cosa il jungler non viene mai ad aiutarmi perchè a lui invece l'ho andato ad aiutare perchè lui c'ha la cabina del badanate a te mi serve oddio 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 eh come mi ha ammazzato dovevo flasha subito e tirare il tasto destro e scappare invece per non usare il flash ma fa senti i tuoi neuroni che spariscono la cosa fortunata è che io sono un mostro in giro di lei che torna in lane comunque lei mi ha ammazzato senza legna ah lei ha flashato comunque gli sto tirando delle slip e abbandonati in tutto questo mi hanno usato la RQ incredibile mi sono dimenticato di averla vado damola considera lei è tipo uno Xerath più efficace lui mi sta distruggendo uno Xerath con più mobilità forse un po' meno HP però uno Xerath con più mobilità forse però c'ha molti meno HP comunque Xerath bisogna farci a capire lì fagatti su 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 sì dai non ho capito perché ben non gli adatto per lasciato ad attacco perché potevo non farlo cioè l'ho rincorsa e gli ho fatto adattacco per non sprecare flash però cosa ho fatto scambio a barrel non mi aspettavo i minions guarda che l'ho giocata bene si me la so giocata bene forse non dovevo traddare all'1 all'1 l'ho fatto aim faccia eeeh resta 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 però santa madonna quanto spamma di spell con la goccia non finisce mai in mana ma io ce l'ho ogni 8 secondi io ce l'ho ogni 8 secondi non è come l'ho smartsata ci sono con il lazzo da lì viene frega un cazzo spamma tanto spell e rottati collo devo bruciare la mia e per evitare le sue spell vanno victor e c'ho un altro cancro ma che è vabbè ma mi mette sera e vieni con victor victor è molto di forte che devo fa? mi torno all'ammazzine anche posso sapere per quale cristo dio di motivo quando io gioco top c'è sempre il jungler top e non sto per ma pusciato perchè stavo qua no classica un cazzo non succede mai sta cosa io c'ho sa e lei sa vivio tanto gravis sta ancora top eh sta la tanto ci vive cco dio ho giocato in lao io una volta a twitch è venuto sei volte al 2 la partita del prima lìa mo gravis me li sogno porco due la notte ehhh e come c'ho? e come c'ho? Io posso No, una minuta Mirko mi ha tirato fuori i ricordi del piano Ma mi sono preso un po' di stack Eh, proprio quello mi è rimasto... Lo so, un attimo da perdere Lo faccio 1.400 ma fai presentato Vedi come deve giocare uno Eh, perchè non giochi il lane? Eh, quello che sta, c'è lo stesso problema di Marlott Non è differenza che io sono Diamond Quindi non c'è neanche un cazzo di motivo Per permacancarli Può esserci saggisarvi nella guerra Fate Tanto confido che sto giocando un champion Che può anche stare a 0-10 e ammazzare Ma che stracazzo Ma dai, non l'avevo vista No Ma... Oh Mi ha mancato Mi ci chiamate l'SS È grave se non c'è stata T'hai ragione, scusa Sta un bot Madonna mia, sei un animale Questo è un animale Prendo top Ricorda che c'ha la passiva, eh Infatti non lo posso ultare Eh, neanche io Ma lo faccio tutta Ah Ti va male Tu levate la cosa Tu levate la passiva Vediamo, no Tu levate la passiva Dai non ci credo Ma che cazzo è? Ma che cazzo è?!? Ma che cazzo è questa roba?!? Oddio, Oddio oddio, 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 che cazzo era? Dove sei stupendo? Che cazzo era? cosa cazzo era che cazzo è